ciao ragazzi e benvenuti su area 41 il canale dei tutorial e delle guide per tutti in questo video andremo a vedere come poter sostituire la batteria al nostro cecotec conga questo questo tutorial andrà bene per praticamente tutti i modelli della cecotec quindi la cosa importante è che vi aiuterò a capire quale quale sarà la batteria più adatta al vostro modello durante il video vi spiegherò anche perché prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanella degli avvisi per essere sempre aggiornati sui nuovi video seguirci sui nostri canali social instagram e facebook che trovate in descrizione e anche sul canale telegram dove trovate offerte su molti prodotti la prima cosa dovremo fare è andare a girare il nostro il nostro robot quindi andare a spegnerlo poi individuare il vano della batteria e togliere le due viti che lo tengono fermo sulla sulla scocca una volta tolte le viti andremo ad aprirlo e potremo accedere alla batteria vera e propria come vedete sul diciamo sullo sportelletto trovate indicate indicata la potenza della batteria quindi ad esempio in questo caso siccome questo robot l'ho comprato ricondizionato da amazon ho notato che c'era il problema che la batteria non durava molto quindi circa 20 30 minuti e il robot tornava sulla stazione di carica questo perché come vi sto facendo vedere adesso la batteria è sottodimensionata rispetto alla potenza che dovrebbe avere in quanto questo è un conga 1790 titanium e ha bisogno di una potenza di 40 watt invece come avete visto la batteria ha una potenza di sole 36 watt ora quindi praticamente non aveva l'energia necessaria per far funzionare il robot per tutto il tempo che avrebbe dovuto avere di autonomia l'ho presa una nuova chiaramente l'ho presa della stessa potenza o non vi nascondo che ho avuto diverse difficoltà perché praticamente sia sul sito della cecotec e sia su amazon non veniva specificato cioè sul sito cecotec non c'era proprio disponibile sul sito amazon o ebay non era specificato che questa batteria andasse bene anche per per questo tipo di robot quindi come vi sto facendo vedere adesso ho preso una batteria che praticamente sovradimensionata sulla capacità quindi 2800 miliampere invece di 2006 però a 40 watt ora quindi la batteria anche se leggermente sovralimentata non dovrebbe dare problemi infatti la sto usando da ormai diverso tempo e non ha regato nessun danno al robot la cosa che bisogna verificare oltre alla potenza è l'attacco quindi dovrete verificare che l'attacco sia uguale comunque descrizione vi lascio diverse batterie per diversi modelli in modo tale che non dovete sfasciarvi la testa per poter cercare il modello adatto chiaramente se non trovate in descrizione quello che vi serve vi basterà misurare con un righello il vano della batteria in modo tale da non sbagliare con le dimensioni quando andrete ad ordinarla nel caso troviate la batteria con la potenza giusta ma un attacco diverso potrete sempre tagliare l'attacco di quella vecchia e saldarlo su quella nuova quindi dovreste ovviare in questo modo al fatto che non trovate la batteria adatta adesso la sto rimontando come avete visto abbastato riattaccare il cavetto e rimettere le viti sullo sportelletto per riavere la batteria funzionante una volta reinstallata la batteria fatela caricare fatela caricare anche per più tempo rispetto al tempo di carica necessario e almeno le prime volte di farlo caricare per circa 1 a 2 ore in più in modo da avere un inizializzazione ottimale della batteria se il video vi è stato utile lasciate un like se avete dubbi o domande ponetele pure nei commenti iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per essere aggiornati anche sui nuovi video in quanto creerò una playlist solo per questi prodotti della ceco tech seguiteci sui nostri canali social instagram e facebook ritrovate sempre in descrizione grazie della visione e al prossimo video